Tante fabbriche inglesi di abbigliamento hanno continuato la produzione per tutta la durata del lockdown nel Regno Unito, impiegando lavoratori immigrati e poco qualificati. L'atmosfera all'estero è positiva per gli immigrati, ma c'è indignazione nei confronti dei proprietari delle aziende che non hanno chiuso, offrendo invece aiuti finanziari ai lavoratori. Lo stesso governo di Boris Johnson ha associato le modalità di lavoro in alcune fabbriche alla prolungata diffusione del virus. L'imprenditore Manoer Singh Semi ha chiuso e ha messo il personale in cassa integrazione, ma altre aziende non sono state così attente. Siamo delusi, la maggioranza va bene, ma purtroppo è la minoranza che ci preoccupa. A Leicester, capitale inglese del Tessi, le 1500 aziende danno lavoro a migliaia di persone, molte hanno sede qui, in San Saviors Road. È solo un caso che il Covid-19 abbia avuto un picco qui a Leicester o è più complicato da spiegare. Si può criticare il proprietario di un'azienda per aver violato le linee guida del governo e questo avrebbe causato un picco di casi di Covid-19? Nick Sakizada è un operaio di una fabbrica tessile. Ammette che durante la quarantena è stato pagato molto meno del salario minimo. Mi hanno pagato 5 sterline al giorno. Per me era come lavorare gratis. Stavo correndo un grosso rischio. Il lavoro non era per niente sicuro. Era come prima del virus. Niente guanti, niente mascherine, niente distanziamento sociale, niente di niente. Però c'è anche chi difende gli imprenditori del settore tessile. D'altra parte non si può dare tutta la colpa solo ai proprietari delle fabbriche, perché le fabbriche danno del lavoro e i lavoratori hanno bisogno di lavorare. La deputata laborista di Leicester, Claudia Webber, ritiene che il governo avrebbe potuto intervenire prima. Il governo poteva assolutamente fare di più. E mi chiedo, se questa fosse una comunità diversa, l'aiuto sarebbe stato dato molto prima? I lavoratori non possono continuare ad essere sfruttati in questo modo. Il governo inglese intanto ha confermato di avere l'autorità per chiudere le aziende che non rispettano le linee guida della sicurezza. Ma la domanda è, non avrebbe già dovuto farlo?